E' questo l'uomo che considerate tanto pericoloso. Sarebbe... Sarebbe questo l'uomo che vuole essere me. Davvero tu sei il re dei giudei? Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. No, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re. Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità, ascolta la mia voce. Ascolta la mia voce. Gesù di Nazareth. Cristo. Il re dei re. perso. Ascolta la mia voce. Grazie per la visione!